Partito e parto io. Continuai a sbracciarti verso la tua panchina, ad arrabbiarti, cosa stava succedendo? Tengo alta la tensione in tutti, chi gioca dai che è in panchina e secondo lei con questo spirito ci siamo presi una grande soddisfazione, sono stati straordinari ragazzi per come l'hanno interpretata, per come hanno lavorato insieme, quella qualità che hanno messo in campo quando siamo ripartiti, la prestazione della squadra vera e i ragazzi meritano questa vittoria. È l'impresa più bella finora dall'allenatore. Ma penso che da questo punto di vista Genova rimane un punto centrale del campionato, perché era un momento importante per noi, è aperto un altro tipo di campionato. Oggi battere, dopo aver battuto la Roma in casa, vuol dire Roma battere la Lazio seconda in classifica, visto che i progressi ci sono, sono evidenti, che siamo diventati una squadra e di conseguenza avanti così, adesso pensiamo alla Juve.